La meditazione è il nostro cibo quotidiano, il nostro strumento, ci può essere utilissimo per abbattere lo stress, per riuscire a trovare un pochino di silenzio interiore che ci darà la forza di gestire lo stress, gestire i problemi quotidiani, in genere i problemi nascono quando c'è confusione interiore, quando c'è un grosso rumore e sono i rumori dei nostri pensieri, i rumori che producono le nostre emozioni, faccio riferimento ai pensieri, le emozioni negative, per cui la meditazione ha come obiettivo, uno dei grandi obiettivi, quello di calmarci interiormente, questo ci consentirà di essere più focalizzati sui nostri obiettivi, più concentrati, avere possibilità di espandere la nostra memoria e quindi di gestire meglio lo stress. Grazie 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 Grazie